Salve amici, ho acquistato da AgriEuro questo prodotto. Sono delle forbici pneumatiche con un sistema con un attacco girevole che permette di girare tenendo le forbici ferme. Queste forbici hanno un doppio sistema di sicurezza. Abbassando questo pulsante rosso si può chiudere e aprire le forbici. Adesso vi dimostro come installare questo prodotto. Ha un tappo di chiusura che io toglierò. All'interno c'è un piccolo filtro per l'aria. Inserirò questa vite sull'attacco mettendo una guarnizione in teflon. Allora, all'interno ci deve essere il filtro. Viene avvitato l'attacco. Con una chiave aperta da 14 è possibile stringere l'attacco. Accensione del compressore, pressione di mandata, attacco rapido e prova. Sistema di oleatore. An elkaar rilassare. Un campo pochettori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.